Siamo venuti qui sperando che aprissero, adesso siamo in attesa di risposte. Sentendo dal telegiornale e dal social così alle 3 dovevano aprire, noi aspettavamo... Invece ancora niente. Siamo qui, aspettiamo, finché non ci danno l'ok, poi andiamo qui. Da un metro di distanza. Non ci fanno avvicinare. La prima cosa che farete quando... Abbracciarci, anche se non si può, ma lo facciamo. Sì, non ci facciamo. Non ci facciamo. Ci abbracciamo, ci abbracciamo e scappiamo. Ormai è tutta zona rossa qui. Ormai siamo tutti qui. Ormai Lombardia è zona rossa. E' anche inutile tener fiuso. Non ha senso.